La laurea in Economia, il lavoro alla Mitsubishi Electric di Milano, una grande passione per il calcio e per la vita, vita spezzata in modo assurdo quella di Andrea Cavanna, 30 anni, impossibile darsi pace per familiari e amici. C'è incredulità, la comunità di Podenzano è sotto shock per il destino riservato a un ragazzo ben voluto da tutti. Sabato sera si stava solo spostando con l'auto, quell'auto che è stata centrata in pieno da un SUV bianco, che secondo le testimonianze viaggiava nella via centrale di Podenzano a velocità sostenuta. Le condizioni di Andrea sono subito parse disperate e ieri se n'è andato. Lascia i genitori, un fratello e una sorella. Il padre era stato sindaco di Farini negli anni 80, il fratello è direttore di condifesa di Coldiretti. Sabato sera la compagnia di amici era a Podenzano, al Bar 900, per un compleanno. Eravamo appena arrivati, raccontano alcuni con cui Andrea aveva cenato. È incredibile, era un ragazzo troppo buono. Andrea Cavanna, il cavo per gli amici, aveva giocato in numerose squadre di calcio dilettantistico piacentino. Attualmente era nelle fila del San Giuseppe. Un ragazzo educato e con la testa sulle spalle, lo ricordano gli allenatori, ripensando alle serate trascorse con allegria e spensiratezza. La dinamica dell'incidente che ha originato la tragedia è al vaglio dei carabinieri. Al volante del SUV, un ventenne piacentino ricoverato in gravi condizioni. Come avviene in questi casi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. A bordo con lui altre tre ragazze tra i 17 e i 20 anni, tutte ricoverate in ospedale, una in condizioni gravi ma stabili. Il semaforo che di giorno regola il traffico di notte è spento. I residenti chiedono di accenderlo.